È stato ucciso con 10 colterlate Klakvir Singh, indiano di 28 anni. L'omicida è un suo connazionale, ha confessato ed è stato fermato dai carabinieri di Eboli. Si tratta di Herman Deb Singh, 27 anni. L'uomo è accusato di omicidio volontario ed è stato trasferito al carcere di Salerno. Ancora da stabilire del tutto la dinamica dei fatti, successi tra la notte di mercoledì e giovedì in località Cioffi. Pare che alla base ci siano dei litigi tra di loro e delle vessazioni che avrebbe subito l'accoltellatore. La salma di Lakvir è stata ricomposta e trasferita all'obitorio dell'ospedale di Eboli, dove nei prossimi giorni si terrà l'autopsia. I carabinieri coordinate dal capitano Luca Geminale hanno fermato Herman Deb pochi minuti dopo l'omicidio. Sono giunti anche i reparti speciali del SIS che hanno proceduto ai minuziosi riscontri investigativi. A seguire l'indagine il PM Guarino. Il 27enne sceglierà il rito abbreviato per ridurre la pena detentiva che sembra ormai inevitabile. Le ammissioni di colpevolezza e le prove raccolte dai carabinieri hanno portato l'indagine a una rapida svolta. Ovviamente il PM ascolterà anche i titolari dell'azienda per capire se le vessazioni di cui si parla fossero reali o fittizie.